Faccio parte di un gruppo con molti giocatori dove hanno fatto categorie più alte rispetto a queste e quindi è stato molto utile per migliorare me stesso, ma penso pure per gli altri miei compagni. Insieme con le altre persone più grandi, con i giocatori più grandi, sono riuscito a crescere meglio grazie anche ai loro consigli per ogni allenamento e ogni giocata che facevo. Dobbiamo continuare a fare come abbiamo fatto per il resto del campionato, come ha detto il mister, e dobbiamo continuare a dare il massimo e continuare a vincere. Penso che sia anche un'occasione per giocare di più, cosa che non ho fatto durante il campionato. Davanti a me c'era Marco Antonelli, che è un grande giocatore che sicuramente non merita questa categoria e penso che sia dalla parte giusta, ma pensavo anche di giocare un po' di più. Mi piace anche molto spingere sulla fascia e andare sulle sue posizioni, però quando serve devo anche difendere per aiutare la squadra.